Adesso ti dico una verità un po' scomoda, manda questo video a chi ne ha bisogno, toglieranno i like a me perché gli starò un po' antipatico, ma magari cambia qualcosa di meglio con te. Che tu sia in un rapporto di amicizia, di lavoro o intimo, poco importa. Hai presente quelle situazioni in cui tu ti aspetti che l'altro o l'altra cambi il suo atteggiamento in base al tuo atteggiamento. Cioè tu non stai comunicando verbalmente delle scomodità, ma le stai comunicando con i gesti, il tono di voce, in modo non verbale. Ecco, quando tu non comunichi verbalmente qualcosa che comunichi verbalmente, non hai il diritto di pretendere che quel cambiamento che cerchi avvenga. Impara ad allineare le tue parole ai tuoi gesti e alle tue azioni. Sii l'esempio di coerenza che vorresti vedere nell'altro e impara a comunicare e a comunicarlo bene il cambiamento che desideri.